13.975 in testa ancora la Anja Brinker con il 15 ottenuto dalla tedesca alle parallele asimmetriche da prestare attenzione a questo esercizio delle parallele asimmetriche per la belga fu terza e l'altro ieri in qualifica questo è un salto Jäger dal ginnasta che ha inventato proprio questo movimento l'ha fatto a gambi di barricate e questo è il cortina credo? no? il Markloff come il salto dei maschi il salto di sbarra dorsale con le gambe di barricate però è un salto che faceva anche la cortina alle parallele il doppio teso non di particolare difficoltà l'uscita pulita insomma dicevamo che se la Zimmerman voleva iniziare scusate la Van Wallenke voleva dare un'impronta alla gara grazie grazie grazie